del governo di utilizzare la metà dei fondi per i rimborsi per le opere pubbliche. Tensione anche all'interno della Regione Veneto, il servizio è di Marco Campanale. La situazione è veramente allucinante come quando siamo stati alluvionati. Non usa mezzi termini, il sindaco di Veggiano sale la rabbia nei paesi alluvionati dopo la polemica sui fondi per i rimborsi dirottati sulle opere pubbliche di risanamento del territorio. Un miliardo di euro di danni, case devastate, il lavoro e la fatica di intere famiglie e imprese spazzate via. Erano stati stanziati 300 milioni per i risarcimenti. Ora parte di questi soldi, la metà, sono destinati ad argini e strade devastati dall'esondazione dei fiumi. Una decisione del governo che ha scatenato l'ira non solo dei comuni alluvionati ma anche del presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato. Chi ha subito danni deve essere rimborsato, ha detto Ruffato, che se la prende anche con Zaia. Il governatore ha incolpato il governo per la decisione, ma Ruffato sostiene che Berlusconi avrebbe preso la decisione in accordo con la regione. Sei mesi che se ne parla, i provvedimenti sono arrivati a Spizziche e Bocconi. Abbiamo sempre detto che la priorità dovevano averla i cittadini, noi sindaci e anche il governatore Zaia. È vero che il territorio ha bisogno di interventi, però prima dobbiamo ristorare la nostra gente. Di posizioni più moderate è il sindaco di Casalserugo, Elisa Venturini. Ma bisogna fare presto, dice i suoi cittadini, stanno aspettando i rimborsi da troppo tempo. In realtà noi non possiamo fare alcun tipo di valutazione fin tanto che non abbiamo dei criteri per il riconoscimento del contributo. Quindi qualora noi avremo i criteri potremo fare poi tutte le valutazioni per dire se effettivamente quanto c'è stato assegnato è sufficiente o meno. In mezzo a tutto anche la protesta del sindaco di Bovolenta, Meneghello. Alcune aziende hanno ricevuto i rimborsi senza presentare le fatture e testimoniare come sono stati spesi i soldi. Altre hanno ricevuto il denaro ma sono già state ripagate dalle assicurazioni. Il denaro per i rimborsi potrebbe essere recuperato, dice Meneghello, anche da chi ha speso meno rispetto a quello che era stato preventivato. In pochi anni ha guadagnato una cosa come 6 milioni di euro senza versare nemmeno un centesimo di tasse. è l'ennesimo personaggio.